Terza edizione della The Wine Award, il concorso giornalistico nato in casa Land Rover nel 2010, quest'anno giunto proprio alla terza edizione, un concorso nato per celebrare un connubio che si può creare tra l'universo enologico e il mondo dell'auto. Devo dire che ci sono tanti comuni denominatori che avvicinano questi due mondi, senz'altro è la passione, le emozioni, le sensazioni particolari che sono legate al mondo dell'auto, così come le emozioni, le sensazioni particolari che esprime appunto il mondo dell'auto. Non solo ma senz'altro è importante quella che è la tradizione e l'innovazione del mondo dell'auto insieme appunto a quello che possiamo ritrovare nel mondo del enologico. Parliamo infatti di tradizione, Land Rover quest'anno festeggia i suoi 65 anni e quindi proprio per questo tendiamo sempre a sottolineare questi valori che sono essenziali appunto del marchio. Abbiamo detto terza edizione con cambiati quelli che sono i criteri di valutazione dei vini che vengono analizzati. Il primo anno sono stati analizzati i vini da un punto di vista di vini emergenti, il secondo anno il miglior rapporto qualità e prezzo appunto nella scelta dei vini e quest'anno sono i vini autoctoni. Proprio per questo siamo qui a Merano, quindi vicino alla fiera di Bolzano dove in questi giorni proprio c'è la fiera autoctona, proprio quindi una fiera che mette in evidenza i vitigni più ricercati, più legati al territorio e alla tipicità della zona. Non solo, l'altro elemento caratteristico di questo evento è che con Land Rover che è senz'altro il marchio per eccellenza della grande mobilità, dei grandi spostamenti, dell'esperienza di viaggio vissuta in qualsiasi condizione, in qualsiasi ambiente. Il Dewine Award rappresenta proprio un'esperienza di viaggio partendo dal nord, infatti i primi vini sono le sei etichette che verranno analizzate qui nella zona del nord Italia per poi passare al centro Italia, altri sei vini e poi per passare nell'area del sud Italia. Quindi un viaggio ideale che avvicina cultura, avvicina territorialità e avvicina proprio questo connubio di sensazioni e di valori sensoriali e valori emozionali appunto del marchio e naturalmente del mondo dell'auto.